Manifesti e cartelloni per dire no all'ampliamento della centrale idroelettrica di Pizzone, oggi il comitato qui al centro storico di Sernia per sensibilizzare la cittadinanza. Che cosa pensa l'opinione pubblica in merito a questo progetto? È sorprendente, in realtà il primo dato è che comunque tutti sanno, quindi Pizzone 2 è un qualcosa che ha lasciato il segno, l'idea di questa proposta di Enel sul territorio ha comunque scosso la popolazione, tutti sono informati grazie anche alle televisioni, ai media, anche grazie al lavoro di divulgazione che stiamo facendo noi come coordinamento Pizzone 2. In realtà sono tutti contrari, tutti ci dicono ma come è possibile che si faccia un'opera del genere in questo territorio? Si pensi al lago di Cassessa Vincenzo che è diventato un po' emblematico in questa vertenza, è toccare quel lago, toccare quel paesaggio montano, ma soprattutto pensare ai nostri paesi come paesi in cui ancora si può vivere in un determinato modo, lentamente, lontani comunque dai rumori, dalla calma, dall'inquinamento, è qualcosa che invece sconvolge. La popolazione percepisce benissimo l'importanza e l'impatto che questa opera avrebbe sul nostro territorio, quindi diciamo che c'è interesse e questo ci convorta e ci dà vigore nel continuare ad andare avanti e a portare avanti la nostra lotta.